Per il resto invece ho detto che voglio parlare di alcune cosine, ovvero il fatto che hanno annunciato quando arriverà la Closed Alpha di The Division Resurgence, con questo tweet che ora non vado ad aprire il sito ufficiale ma lo prendiamo direttamente dal nostro essenzialmente, ovvero The Division Darkstone.it, perché le date della Closed Alpha sono esattamente dal 21 al 28 di luglio. Quindi prossima settimana ci siamo finalmente. A parte questo ovviamente c'è un accordo di non divulgazione nel DA, quindi non potrò farvi vedere scene di gioco, né tantomeno potrò dirvi la mia per quanto riguarda questo test del gioco, ammesso che mi faranno entrare, non è nemmeno così sicuro. Però a parte questo, ci sono alcune cose anche da chiarire, ovvero che per accedere al gioco non basterà semplicemente cliccare e installa sul Play Store, perché l'applicazione avrà un test specifico solo in Europa. Quindi noi possiamo testarla, noi italiani, i francesi, spagnoli, inglesi, però per esempio chi abita nell'America no, chi abita in paesi asiatici nemmeno. Hanno detto che faranno delle altre Closed Alpha o Beta, quello che è, insomma, dei test per il gioco per altre parti del mondo, anche se è un tantino strano. Ci vuoi testare i server singolarmente, non tutti insieme? Molto strano. A parte questo, vi arriverà un link tramite email, dal quale vi diranno come scaricare questa Closed Alpha, quindi sarà disponibile in accesso molto limitato sul Play Store, non sarà una cosa pubblica. A parte questo, è richiesto un account Ubisoft Connect. Ora, io non ho idea di perché abbiano scelto questo, forse perché comunque vogliono ottenere i progressioni, insomma, tutte quelle cose lì che funzionano tramite Ubisoft Connect, anche per questo gioco mobile. E credo che sia la prima volta, forse, che c'è un gioco di Ubisoft che sfrutta tutto il sistema di progressione, tutto il resto di Ubisoft Connect, però meglio, se questo significa che per esempio, la nostra lista di amici viene portata anche sul mobile, quindi buono. A parte questo, a parte le date, è un po' quello che sappiamo che ci sarà all'interno del gioco. Ovviamente la progressione di questa Closed Alpha non andrà a influire su quelle che avremo nel gioco finale, quindi quello che facciamo nella beta, nell'alpha, rimane nell'alpha. E come ultima cosa, non hanno specificato né le date di inizio, cioè nel senso l'orario di inizio di questa Closed Alpha, quindi sappiamo che il 21, ma 21 dalla mezzanotte, dalle 9 di mattina, quindi questo non lo sappiamo. Forse ci arriveranno altre news nei prossimi giorni. E non hanno nemmeno specificato la pesantezza del gioco, che è molto importante, perché alla fine stiamo parlando di un gioco mobile, e l'ultima cosa che vuoi è renderlo troppo pesante, perché così non è accessibile. Non hanno nemmeno detto quali saranno i cellulari nel quale sarà disponibile. Non sappiamo nemmeno quali sono i requisiti, cioè per esempio se richiede Android 9, Android 10, non lo sappiamo. Cioè non hanno specificato niente. Lato requisiti sistema zero. Però vedremo, vedremo, tanto vi farò sapere nei prossimi giorni, quindi poi staremo collegati su questo.